Ciao ragazzi, benvenuti in Primo Dan. Oggi parliamo di qual è la miglior arte marziale. Allora adesso sto facendo un po' questi video parlati perché sto aspettando, vi dico la verità, che mi attivino la monetizzazione. In questi ultimi mesi abbiamo preparato dei contenuti davvero bomba, però devo aspettare appunto che mi attivino la monetizzazione, se no YouTube non li spinge e sarebbe un peccato perderli. Quindi intanto, se sei nuovo, iscriviti al canale perché a settembre uscirà praticamente un video a settimana dove andrò a provare un'arte marziale diversa, ragazzi, dei contenuti così al momento in Italia non ci sono ed è veramente una bomba. Però, dato che siamo in vacanza, siamo ad agosto, eccetera, facciamo un po' quattro chiacchiere spensierata e voglio arrivare subito al punto, no? Tutti i praticanti di arti marziali, tutti, prima o poi si fanno questa domanda. Ma qual è la migliore arte marziale? Qual è la migliore arte marziale che mi permette di distruggere tutti, di difendermi, di essere un super saiyan? Eh, ragazzi, adesso cerchiamo di capire. Allora, intanto vi racconto un po' in breve la mia storia. Io ho iniziato a facendo karate shotokan all'età di sei anni, classici kata, kumite, ho fatto anche diverse gare, ho stato anche campione appunto regionale, interregionale, ho fatto i campionati italiani, sono arrivato terzo, insomma ho fatto diverse competizioni. Poi a 18 anni, a 18 anni si ha un po' quella cosiddetta cazzimma che vuoi dimostrare un po' di essere il più forte, ho detto cazzo ma io sono cintura nera e di palestra, non ero cintura nera prima o dan, cintura nera di palestra, però non ho mai preso un pugno in faccia, cioè perché nel karate, non so se lo sapete, ma c'è sempre il contatto leggero. Cioè, sì, ma se in strada poi mi arriva un pugno, io non sono abitato a prenderlo. Così poi ho deciso di provare uno sport al combattimento, che può essere, quindi ho fatto appunto la kickboxing, la muay thai, per poi passare al pugilato, questo perché, anche perché il pugilato, io ero più portato con i pugni, mi divertiva di più dal punto di vista proprio diciamo ludico, io mi divertivo di più perché c'erano più schivate, più pugni, e vi dico la verità, fino a un mese fa, due mesi fa, ero convinto che in strada il pugilato fosse la miglior arte per difendersi. Da una parte è ancora così, però restate fino alla fine perché poi adesso arriviamo a questo discorso. Allora, diciamo che intanto, io sono degli anni 90, sono un vecchio, tra virgolette, e vi dico che prima le MMA non c'erano. Io mi ricordo che compravo delle riviste da bambino che si chiamava Bruce Lee Kung Fu Magazine, qualcuno magari appassionato le ricorderà, che facevano vedere le diverse arti marziali, c'era il Kung Fu, c'era il Tai Chi, il Karate, la Kickboxing, l'MMA era ancora un po' un tabù perché pensate un po' che le MMA erano illegali, forse solo in Brasile si potevano praticare, adesso non mi ricordo, potevi comprarti delle videocassette, insomma, ma era tutto una roba. Però diciamo che una cosa bisogna dirla, le MMA in sé hanno un po' fatto una pulizia, perché ai tempi, anzi in realtà è ancora così, tante piccole palestre di arti marziali, eccetera, avevano un po' quella saccenza di dire non puoi combattere perché le mie tecniche sono mortali, potrei ucciderti, quindi non combattiamo. E c'erano tanti maestri, ci sono ancora oggi, che magari sono cintura nera, mille gradi, però non hanno mai combattuto, no? E io quando ero piccolo dicevo, cazzo, ma questo è un maestro, non ha mai preso un pugno, ma come fa a poter insegnare la difesa se poi lui è il primo che non l'ha mai praticata, no? Molti di voi lo sanno, io sono un esperto di fitness, faccio calistenics, è come se io insegno a una persona a fare la panca piana, però non l'ho mai fatta. Capite che la teoria e la pratica non funzionano, bisogna certe volte, bisogna sperimentarla. E io rimango ancora un po' di questo pensiero. Infatti, diciamo che dal punto di vista del combattimento, le MMA hanno fatto capire che tante tecniche che venivano insegnate, poi in realtà, a livello pratico non servivano a nulla. Quindi proprio a livello di combattimento è così. E ad oggi, diciamo che l'MMA è diventata un'arte a sé. Prima era un mix di diverse arti marziali, ora ormai è una disciplina a tutti gli effetti, perché ha il suo regolamento, ha le sue cose, le sue tecniche e quant'altro. E per quanto mi riguarda è la più completa. Però è molto difficile da praticare. Ricordiamo intanto che i primi tornei di MMA, tra l'altro, appunto c'era karate, contro kickboxing, contro kung fu, contro, che ne so, kai taekwondo e quant'altro. Quindi era proprio il vero torneo, diciamo, dove si sfidavano tutti questi campioni. Chi è che ha vinto? Hanno vinto i gresi. Chi sono i gresi? Sono praticamente degli atleti che praticavano il jiu-jitsu, il Brazilian jiu-jitsu. Hanno vinto praticamente tutti questi primi tornei. Però questo perché? Perché di solito prima, nelle arti marziali, si segnava solo ed esclusivamente lo striking, quindi la lotta in piedi. Non si poteva lottare a terra, no? Quindi negli anni tutti i praticanti di arti marziali, come kung fu, karate e quant'altro, non mettevano, non facevano la lotta a terra. Anche se magari c'era nella pratica, tendevano a non allenarla. Questi qua, i gresi, che facevano jiu-jitsu, allenavano solo la lotta a terra e non, e praticamente hanno inculato tutti. Cioè, proprio nel vero senso della parola, nel senso che hanno spiazzato tutti. E quindi diciamo che il jiu-jitsu ad oggi è diventato una delle arti marziali che se una persona vuole diventare completa deve per forza imparare. Però c'è da dire che adesso le cose sono cambiate ancora. Cioè abbiamo avuto un'altra evoluzione, nel senso che ormai non è più così, non è più il jiu-jitsu che fa da padrone, ma si è tutto uniformato. E qui adesso arriviamo al discorso dell'arte marziale, no? Dell'arte marziale migliore. Non volevo farvi questo grande pippone, però diciamo che, allora, prima pensavo che la box fosse la migliore arte marziale per quanto riguarda la difesa, perché comunque in strada, quando vai litigare con qualcuno, di solito si risolve con due pugni. E se trovate un pugile veramente avanzato, veramente forte, preparato, che magari ha 100 match, è così allenato a dare dei pugni forti che in strada vi può mandare in coma. Cioè questa cosa, se beccate un pugile professionista, a parte che ovviamente non lo possono fare, ma quello è un altro discorso, un discorso legalità, lo sappiamo, no? Se un pugile doveva si trovata a difendere, vi dava una cartella in faccia, eh, ragazzi, lui in mano ha delle armi. Però ho pensato, cavolo, però è anche vero che il Brazilian Jiu Jitsu se in strada arriva uno, uno bravo, vi prende, vi immobilizza, diciamo che questa cosa può essere più efficace perché intanto vi fa evitare dei danni dal punto di vista legali, delle beghe legali, ma soprattutto vi permette appunto di difendere quando avete una, quando fate una leva articolare a un avversario, in quel momento lì avete in mano la sua vita. Cioè, ragazzi, non so se vi rendete conto, ma in quel momento quando sto per fare una ghigliottina a un avversario, io ho in mano la sua vita. Però quante volte si svolge un incontro in strada? Cioè, quante volte è capitata di dovessi picchiare e dover arrivare in strada? Poi procede a dire un'altra cosa, che questo è il succo del video, no? Ma io davvero voglio praticare un'arte maziale per poter picchiare qualcuno in strada? Cioè, è quello il motivo per cui voglio fare un'arte maziale? Cioè, non ha senso. Tanto, adesso qui arriva il succo del video, dobbiamo fare una differenza tra arte marziale e sport da combattimento. Nello sport da combattimento, lo dice la parola stessa, io vado a fare un combattimento. Quindi, di solito, quando, se io faccio box, MMA, kickboxing, farò tante volte uno sparring, mi piace proprio combattere. Vado a fare un'arte che mi insegna appunto l'arte del combattimento, che può essere a terra, come per esempio il grappling, il jiu-jitsu, può essere in piedi solo con i pugni, come può essere il pugilato, oppure pugni e calci, come può essere la kickboxing. Ricordiamo però che qua c'è un regolamento, c'è un arbitro, c'è un giudice, c'è un qualcuno che ferma l'incontro se dovesse andare oltre. E soprattutto, io sono preparato mentalmente. Che cosa vuol dire? Che io, quando andrò a fare il match, intanto mi allenerò tutto il mese, due mesi, sarò lì pronto a studiarmi ogni minimo dettaglio, ogni particolare, immaginerò mille volte il match, sarò condizionato per sostenere quel match, farò una dieta. E soprattutto mi diranno l'orario e la data precisa e soprattutto so anche chi è l'avversario. Quindi ho un sacco di elementi che dal punto di vista mentale mi possono aiutare. Quindi io vado sul ring, esattamente cosciente che andrò a fare un combattimento. Avrò delle protezioni, avrò un paradente e quant'altro. Per quanto riguarda invece il combattimento da strada, non è così. anche se io sono condizionato, allenato e quant'altro, il più delle volte in strada succede che qualcuno vi rompe le balle quando magari sei stanco morto, hai i tuoi problemi mentali, sei lì, magari hai litigato con la ragazza, hai avuto una giornata pesante, sei distrutto, magari fai pure, non so, un lavoro pesante, esci dal lavoro che sei lì con lo zaino addosso, magari sei bardato col giubbotto e qualcuno magari ti vuole rompere le balle. Capite che già partiamo male perché arriva uno e vi tira una cartella in faccia, un pugno, voi magari non siete così lucidi per poter reagire e quant'altro. Quindi l'arte marziale, sì, vi aiuta, però oppure magari uno ha un coltello, una pistola, ecco, non siamo nei film quindi nessuno riesce davvero a difendersi da un coltello. Perché? Perché in quel momento, ragazzi, vi state cagando addosso. Cioè, è la verità. Cioè, potete essere anche veramente o lo fate per lavoro, siete dei militari, e quant'altro che siete abituati, ma state comunque rischiando la vita. Ma il più delle volte, anche tutti quelli che vi insegnano le robe lì per disarmare, sì, cioè, vedetelo come un gioco, ma in realtà, dal punto di vista mentale, voi non sarete mai pronti. Sicuramente, praticare uno sport a combattimento, in questo caso è anche un'arte marziale, vi può, diciamo, dare un 10-15% di probabilità di salvarvi. Perché? Perché magari nel caso della box avete un pugno condizionato, magari nel Brazilian Jiu Jitsu se qualcuno vi afferra sapete cosa fare, e così via, in un'arte marziale sapete dare un calcio, sapete dare una parata, va bene. Però in realtà, il ragionamento è sempre quello, ma voi davvero volete iscrivervi a un'arte marziale per potervi difendere? Se è quello il motivo, ragazzi, non lo fate, cioè, non lo fate, perché è proprio sbagliato. Oppure, non deve essere il vostro obiettivo primario. Per quanto riguarda invece l'arte marziale, che cos'è? L'arte marziale, lo dice la parola stessa, è un'arte, anche qua. In questo caso, deve volentanto piacervi anche la filosofia che c'è dietro, appunto, un'arte marziale. Dovete vederla anche un po' come una sorta di ginnastica. Praticando un'arte marziale, in alcune arti imparerete comunque a combattere, in altre no, però imparerete a muovere il vostro corpo nello spazio. Ad esempio, guardate il Tai Chi, alcune forme del Kung Fu, ma anche praticando, ad esempio, alcuni kata. I kata non è che li stanno andate lì e li usate. È vero che, e poi su quello magari ne parleremo, il kata è come se fosse una specie di enciclopedia, perché ai tempi non c'era YouTube, non c'erano i tutorial, quindi per tramandarsi un po' la conoscenza eseguivano questi gesti, praticandoli oggi, e ve lo dico appunto da esperto del fitness, che cosa vi portate a casa praticando ad esempio un kata? Imparerete a combattere, difendervi come nei film? No, però imparerete a muovere il vostro corpo nello spazio, quindi sarete più mobili, più flessibili, anche più forti, perché stare appunto in una posizione accovacciata per tanto tempo, con le ginocchia appunto piegate, vi darà un sacco di benefici al punto di vista articolare e anche muscolare, senza pesi, quindi è un allenamento senza pesi da fare ovunque, poi se vi piace o non vi piace, ecco lì arriva l'altro punto, voi dovete scegliere intanto l'arte mazziale che più vi piace, perché magari sono appassionato della Cina, quindi voglio fare il Kung Fu, va bene, perché magari vi piace tanto stare con il karate, e mi piace tanto dare quei calci, ok andrò a fare allora karate, magari vi piace, non so, la lotta a terra vi piace appunto, allora andrò a fare Jiu Jitsu, ecco voi dovete trovare l'arte mazziale che più si adatta alle vostre caratteristiche fisiche, se magari fare troppi calci non vi piace, vi annoia, non farete mai il Taekwondo, se la lotta a terra, le prese, strusciarvi tra di voi, vi annoia, non fate il Jiu Jitsu o il Judo, però non pensate a fare l'arte per potervi difendere perché diventate invincibili, perché state sprecando il vostro tempo, se il vostro obiettivo è combattere, quindi vi piace magari combattere, allora magari scegliete uno sport a combattimento, che può essere appunto la kickboxing, può essere la Muay Thai, può essere l'MMA, in questo caso, che è comunque la forma più completa, oppure il pugilato, io ad esempio quando ero più piccolo, anche se ero appassionato di arti marziali, mi divertivo di più a fare il pugilato, è vero che prendi tanti colpi in testa, però mi piaceva di più imparare le schivate, c'era anche poi la possibilità di fare una carriera dal punto di vista agonistico, ad esempio nell'MMA è un po' più lunga, è un po' più complessa, insomma, e poi c'è tanta lotta ai tempi, ad esempio a me la lotta non piaceva, non mi divertivo stare lì a provare, riprovare la lotta, capito, quindi era inutile. E niente ragazzi, quindi questo qui è un po' il succo del discorso, cioè è una chiacchierata, ripeto, non vi devo insegnare nulla, anzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, io penso che in realtà anche farvi questo tipo di domande sia del tutto normale, perché purtroppo la colpa è di alcuni, diciamo anche, purtroppo il mondo delle arti marziali è pieno, zeppo, di ciarlatani, di persone che hanno un po' la pretesa di insegnarvi a combattere, di insegnarvi a diventare, cioè loro vi attirano dicendo no tu da me imparerai a combattere e poi in realtà sono delle, purtroppo delle mezze sega nel senso che sono dei ciarlatani insomma, vi vendono il fumo e voi vi ritrovate ad aver speso dei soldi, sprecato tempo, aver imparato tecniche praticamente inutili perché loro vi hanno detto che andando da loro diventerete invincibili e questa è una cosa sbagliata. Ho conosciuto però anche tanti maestri che praticano la loro arte marziale ma non cercano il combattimento, non cercano la lotta, cercano altre cose, poi ognuno di noi pratica un'arte marziale perché magari sta bene nel farla e non vuole per forza combattere, potrebbe fare anche una ricerca diciamo introspettiva magari praticando un kata state meglio con voi stessi, vi aiuta a rilassarvi, magari facendo anche non so il kumite a contatto leggero vi divertite e non vi fate male perché magari comunque avere sempre gli occhi neri, sempre il naso rotto non è piacevole oppure molti cercano proprio lo scontro fisico perché hanno quell'energia che vogliono scaricare e solo facendo uno sport a combattimento possono trovarla perché magari se uno è bello carico, bello gasato e lo mettete a fare un kata dopo tre giorni si annoia. Quindi ragazzi ditemi un po' che cosa ne pensate, fatemi sapere secondo voi appunto qual è la miglior arte marziale se esiste e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale dobbiamo arrivare assolutamente al 1000 iscritti perché dopo 1000 iscritti verrà attivata la monetizzazione e potrò tirarvi fuori dei video incredibili che ho già preparato. Grazie di essere stato con me ci vediamo in un prossimo video bella rata ciao